Allora ragazzi, adesso ve la racconto subito Preparate il popcorn che inizia la storiella Estate tipo 2004-2005 Calcolate che era il primo anno di Ronaldo Che era andato al Manchester United Dallo Sporting Lisbona E io tipo era un bimbo minchia All'ennesima potenza Comunque vi ho detto prima di Ronaldo Perché quella sera indossavo la maglietta di Cristiano Ronaldo Del Manchester Che ancora dovrei avere da qualche parte tra l'altro Comunque Ero andato a un parco giochi Un parco di divertimenti la sera Con amici E a un certo punto Mentre saltavo sui tappeti elastici Mi prende una cosa qua allo stomaco Che cos'era? Cagarella a spruzzo Di corsa vado in bagno Ma purtroppo il bagno degli uomini era chiuso Allora che faccio? Mi stavo sentendo male Vado di corsa al bagno delle donne Che per fortuna era vuoto Non c'era nessuno E vedo e noto con mio dispiacere Che tutti i bagni sono rotti tranne uno Allora che faccio? Sorpreso da questa diarrea E non avendo neanche i modium Mi fiondo immediatamente nel bagno A liberarmi di questo corpo estraneo E lì fuochi d'artificio a non finire Peggio di Frank Matano E dei film di Boldi e De Siga E' proprio pom 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 Finisco Ah finalmente Mi sistemo la maglietta di Ronaldo Esco dal bagno Boom Davanti a me mi vedo 7-8 ragazze in fila Per il bagno Che mi guardavano tutte Con faccia incazzata E disgustata A quel punto ragazzi Un po' mi sono ne vergognato Però mi veniva più che altro Da ridere E dico ad alta voce Mentre me ne andavo Ragazzi Anche Cristiano Ronaldo caga e me ne vado Ecco questa è una delle più brutte figure che ho fatto Passiamo avanti va Bene ragazzi abbiamo fatto anche il mini Dexter fa tutto E adesso possiamo finalmente andarci a riposare A rilassarci un po' Oddio non saprei quale scegliere Voi che dite? Velosa o rasata? Come le peli? Beh dire la verità preferisco Un pollo! Eccoci comunque arrivati in postazione PC Allora ora rispondo a un po' di vostri commenti Che mi lasciate sempre ragazzi Grazie ovviamente Ah ora se lo faccio subito vedere Apro le statistiche di Windows Le statistiche Pro e ve lo faccio vedere Pannello di controllo Sistema e sicurezza Eccolo qua questo è il processore Un imbecazzutissimo i7 RAM 16GB perché mi serve Oltre che vabbè per i video Anche per il lavoro di foto e video Vedete anche la scheda video Che è la GeForce GTX 660 Ti Anche essa cazzutissima E basta Poi ho il case Cooler Master Le ventole E... Boh Basta sono queste le specifiche Ah bella domanda E ora lo scopriamo insieme Perché lo andiamo a comprare proprio adesso Insieme Allora Oh rullo di tamburi Quale sarà? Dai che avete capito The Last of Us Eccolo qua Ora me lo compro E questo è un gioco Veramente Straordinario Da quel poco che ho potuto Vedere e leggere E non vedo l'ora di giocarlo Mettilo al carrello E compriamolo E andiamo ragazzi Questo è un giocone Questo è un giocone Ecco che è proprio a fagiolo Questa domanda Ragazzi non credo di fare Un gameplay su The Last of Us Anche perché l'hanno fatto A tempo debito Sia Gabbo che Johnny Creek Comunque Se volete vederlo voi Un gameplay su Questo fantastico gioco Scrivetemelo pure nei commenti E lo farò molto volentieri Ma ragazzi Ma ora è giunta veramente Il momento di rilassarmi E ora ci facciamo una bella partitina Non so a cosa Oddio Oddio quanti sono i poliziotti Quanti cacchio sono Sì Guardate te sberre No ragazzi Su Call of Duty Non l'ho mai camperato Forse 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 In Call of Duty Uno ma proprio agli inizi In Call of Duty 2 Sul piccino Proprio agli inizi Ma dopo 5 secondi Mi sono stufato Mai camperato Forse è successo In Call of Duty 2 Quando avevo Do o dieci anni Ma ragazzi Semplice Porca troia E mo come io lo dico Pronto Pronto camper Oh ciao Senti ti devo dire una cosa Oi Dexter Dimmi Io sono tuo padre Cosa? Cosa? Quindi figlio mio Mi dispiace dirtelo Ma prepara le chiappe Che vengo a stanarti E vengo a ballarti dietro Cosa? Ok possiamo prendere i soldi Big money I want a big money Cosa penso ragazzi Non me ne frega niente Cioè nel senso Mi danno visualizzazioni E basta gli haters Quindi Se mi danno visualizzazioni Va bene Tanto finché ci siete voi Che vi riempite di pollicioni in su E di commenti positivi Io continuerò Io vi ringrazio Mi abbraccio veramente tutti Grazie ancora Ma certo che no Ma è un'esperienza bellissima Questo che sto vivendo Questa che state vivendo Anche voi insieme a me È tutto fantastico ragazzi Non ci ho mai pensato Sinceramente Non credo proprio Che lo farò Bene ragazzi Adesso stacco Che si è fatta una scelta Mi è venuto anche Un leggero langurino È ora di cena E me ne vado a mangiare Ora stacco tutto Ok C'è la cena È pronta E quindi Ora me ne vado a mangiare Ragazzi Buona cena Ci vediamo dopo cena Guarda che mi mangio Fagiolini È l'ora di uscire Con i cani Vedete Questo è l'altro cane Che si chiama Spank Che stant'intena L'ho fatto vedere Solo l'altro E lo sapete adesso Che ora è È l'ora di uscire Con i cani Via Vediamo Un bel borzo Che è uscito Già prima E ora tocca a te Seduto Bravo Io Gli sguinzaglio I cani contro Guardate che morsi Ok Andiamo a fare La passeggiata Con i cani Guarda che c'è qui Gattini nuovi Le belli Andiamo va Mamma mia Mi sembra un montesi No Che si riprende La vita Che fa Poi c'è stata Tutta la gente Mi guarda Giriamo a destra Senti ragazzi Ora Andiamo a fare La chiacchia I cani Uno è il cane L'altro A casa A punizione Non è sempre Che è uscito prima E quindi Ora esce Ora tocca a questo Ok siamo arrivati Al parchetto E il cane Pipì Mando un saluto A Ikame E come cellulare Ho questo Come vedete L'iPhone 4 Funziona benissimo Lo so che è un po' datato Ma tanto Funziona Ottimamente E viva la Apple Mi ci trovo bene Quindi A posto così Dai 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 che ci siamo Per la cacca Dai che ci siamo Per la cacca Eccola qua Basta Censuriamo Censuriamo Se no Ci chiudono il canale Ecco Come vedete Dexter fa tutto Ora colloco pure La cacca dei cani Ragazzi sempre Fatelo sempre Se ce l'avete in cane Accogliete la cacca E buttatela Allora Ho frequentato Per 4 anni Il liceo scientifico E poi L'ultimo anno Invece Sono passato Al liceo linguistico E perché Perché sono Paxo No Sono Pacman Ora vi faccio Il commentary Del cane Che fa la pipì Eeeh Con chi ce l'hai Hai visto un cagnone Chi c'è Ho visto un passeggino Ah no Hai visto un passeggino Perché Dovevi sapere Che il cane C'ha gli incubi Dei ragazzini E dei passeggini Perché quando era Proprio cucciolo L'abbiamo portato In un negozio E tipo c'era un ragazzino Un bimbo minchia Super bimbo minchia Che ci avrà avuto Sei anni Abbandonato dai genitori Che con un carrelletto Giocattolo Gli dava fastidio al cane Mamma mia Che nervoso E quindi Gli è restato lo shock E ora Ogni volta Che vede un passeggino Un bimbo minchia Gli appaia Scuola Scuola ragazzi Vi ho detto prima Ormai l'ho Finita da un pezzo Lavoro Faccio il fotografo Il videomaker Anche se non so Riprendermi Da solo Un telecamera Vabbè Andiamoci a riposare Un pochino In riva al mare Ci godiamo Sta bella rietta Che stasera È fresco Bene Adesso ci andiamo A fare una passeggiata Lungo il mare Questo paese Dove sto ora È abbastanza carino Però non è che ci sia Molto da fare È piccolo Qua alla fine Passeggiare sul lungomare Giardini Dove far Far La puttua al cane Ristoranti Dove mangiare Navi Camperate E basta Non si vede Tra l'altro Un cacchio Perché è buio Però Andiamo avanti Lo stesso Allora La mia prima console Ragazzi È stato il Commodore 64 No vabbè Il Super Nintendo Diciamo È il primo gioco Dunque Del Commodore 64 Circus Ma neanche me lo ricordo No Super Nintendo Super Mario All Star Il gioco indimenticabile L'ho finito 200 volte Deve andare piccolo Ok Mi metto qua Riposare sul muretto Dietro sul mare Non so se lo vedete Ecco qua Verrà che inquadrature Suggestive Che vi propongo Allora Si parla sempre di giochi Dunque Anche l'ultimo capitolo Non mi è dispiaciuto Per niente Però i preferiti Diciamo Sono i primi tre E se devo sceglierne uno Il terzo Perché è stato quello Con cui ho giocato Di più Credo Ragazzi Ce ne sono veramente Tanti 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 Diciamo che Di giochi di nuova generazione Che mi hanno colpito particolarmente Sono stati A parte Killzone 2 Di spara tutto Anche vabbè GTA L'intramontabile GTA Mi è piaciuto molto Baionetta Girls of War Assassin 2 Assassin Brotherhood Pure mi sono piaciuti molto E poi Un pollo Vabbè va Torniamo Un paese Di rap Arganza Un'ottantenne Che canta Quell'età media Dei nonni Minchia Quello tipo Dei Settant'anno Di te 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 Ci sono tutti Tutti Ok ragazzi Me ne torno Ce ne torniamo a casa Perché siamo E sono stanchissimo Dopo la giornata di oggi Intanto mi tocca fare Questa scarinata pure Tanto perché Sono stanco Vabbè si fa senza problemi Sì ragazzi Progettoni Progettoni Già da Fanculo con l'OFD Ho in mente Da un anno E passa Non ho ancora Potuto fare Per mancanza di materiali Ma Arriverà Arriverà Ok Siamo arrivati Senti Quattro cane che abbaglia Senti che casino che fa Eccolo qua Ti è incazzato Che non ti abbiamo portato Che domande ragazzi Sono un pro troller No mi sembra logico Ragazzi ma che domande mi fate Certo che no Che schifo E sai perché? Perché sento che ti sto sulle palle Ciao a te Non è molto facile Mamma mia ragazzi Ho appena finito di vedere un film È una cosa Obbriobriosa Parla tipo di una Che si era chiusa Dentro una casa Che c'era un bunker E vedeva Attraverso gli specchi Ed era intrappolata Là dentro Guarda Uno schifo totale Tutto il film Ora Me ne vado a dormire Che c'ho sonno Che domani si ricomincia E andiamo prima però A lavarci Beh ragazzi Sinceramente Io preferisco Un pollo No ragazzi No No Sono troppo stanco Ho troppo sonno Per rispondere a queste domande Cioè veramente Poi Cambiate spacciatore Eccolo in altra Le domande fatte Dopo aver fumato Roba andata male Però a questa rispondo Perché è semplice Come si lava il sapone? Con l'acqua Semplice no? Basta ragazzi Ce la faccio più Voglio andare a dormire Voglio andare a dormire 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 Panoramica del bagno Prima di andare a dormire Andiamo a dormire Va che è meglio Non ti possa rispondere a queste domande Bene Finalmente posso mettermi a letto Ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Come al solito Vi ricordo di lasciare Un bel polione in su E anche un commentino Io ragazzi Sono distrutto Me ne vado a dormire E domani Un'altra giornata Spero veramente Che il video Vi sia piaciuto Ricordiamo prestissimo Un nuovo video Fatemi sapere Se avete apprezzato Questo vlog Fuck you time Vi mando una buona notte Un abbraccione a tutti E ci ricer... Un pollo Un pollo Un pollo Dexter fa tutto Un pollo Sì